ciao ragazzi e ragazzi bentornati e oggi grazie da vista abbiamo fai scopa numeri fortunati un mamma non mamma e una battaglia navale allora ragazzi iniziamo subito con il fai scopa new e vediamo cosa succede allora buona visione a tutti e iniziamo con le carte sul tavolo 28 e quindi un 10 dobbiamo trovare con 10 4 1 5 1 6 3 1 8 e un 2 poi abbiamo un asso un 7 un 9 un 7 6 ultimo 9 quindi ragazzi questo biglietto numero 39 è perdente anzi facciamo una mano ma adesso ok grazie anche di mamma mamma e vediamo cosa succederà se mamma se non mamma allora simbolo bonus la scarpa a questo biglietto il numero 34 allora vediamo il sole pennello smile cuore un 8 un altro cuore la pace arcobaleno cassetta vediamo da qui tamburello cuore la mano un altro cuore e sono 4 vediamo se c'è l'altro cuore qui niente ragazzi 1 2 3 4 niente ragazzi anche questo biglietto è perdente adesso vediamo con i numeri con i numeri chiudiamo un po vediamo anzi facciamo così ok allora iniziamo subito 32 32 32 eccolo qua andiamo avanti con il 40 40 non lo vedo 38 38 38 eccolo qui poi abbiamo il 36 36 36 non c'è 74 74 74 74 non lo vedo c'è 75 76 77 non c'è 69 69 69 69 non c'è nemmeno lui 68 sta qua 77 77 77 poi abbiamo il 46 46 46 non lo vedo 75 penultima colonna 20 il 20 non c'è no no 31 31 31 31 non c'è nemmeno lui 66 66 eccolo qui 65 sta qua 45 almeno che ci va a prendere il costo del biglietto ma 50 niente 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 da fare ragazzi e infine 54 niente ragazzi anche questo biglietto è perdente mamma mia la bandata è andata è andata a farsi benedire allora non mi sa che devo andare a fare benedire io che vediamo ecco qua ok allora vediamo le coordinate c6 c6 sì c6 eccolo qua pezzo e 4 1 2 3 4 pezzo poi abbiamo h5 h5 pezzettino d2 questa è quella rossa f2 poi perché non ci darà mai b6 b6 pezzo h2 e questo è sempre quella grossa f6 pezzo e 6 pezzetto e infine h4 234 un altro pezzetto ragazzi anche questo biglietto è perdente vediamo però se grattando la griglia troviamo lo scrigno vediamo ragazzi no non c'è lo scrigno niente da fare niente da fare ragazzi allora abbiamo grattato questi biglietti qui questi quattro biglietti ma purtroppo sono tutti perdenti pazienza ragazzi io nel video non ci cioè nelle grattini ci sto quindi e niente va bene se il video vi è piaciuto ragazzi mettete un like iscrivetevi al canale e un bacio e un abbraccio da maritena ciao ciao alla prossima